Fortunatamente dopo un anno di duri lavori rientriamo a Pra, la sorpresa più grande è stata la massa di adesioni che abbiamo avuto in pochissimo tempo, tant'è vero che superiamo le 6.000 presenze gara in 4 giornate di gare, sono oltre 40 le società che prenderanno il via da venerdì pomeriggio alle 14 ai blocchi di partenza della piscina e quindi diciamo un rientro con grande successo. Un appuntamento molto importante perché ci sono tanti giovani ma ci sono anche atleti di un certo livello. Sì, quest'anno abbiamo una delegazione di Firenze da Restivo, Zazzeri e Megli che sono atleti di grande rilievo nazionale per arrivare ai nostri atleti quali la Musso, la Menicucci e Razzetti che credo che però sia impegnato in Sudafrica per una rappresentativa nazionale. Quindi sicuramente livello tecnico molto alto, quest'anno è uno dei più alti di tutte le 14 edizioni, però sicuramente è anche una gran festa del nuoto che appunto torna nella piscina di Pra con tutto il circondario che ormai sappiamo far intrattenere. Ricordiamo infine il programma da venerdì a domenica. Da venerdì alle 14 inizieranno le gare dello sprint per arrivare a tutto il programma gara federale tra sabato e domenica mattina, domenica pomeriggio alle 15.30 inizio delle finali ed in più non dimenticherai la parte sociale che anche quest'anno Gruppo Sportivo Aragno ha deciso di aiutare e contribuire alla ricerca della tassia di Friedrich con una maglietta legata al trofeo ma con il fine benefico per aiutare l'associazione Ilaria per gli amici di Ilaria. Ancora un grande evento sportivo a Genova il prossimo weekend, la 14esima edizione del trofeo GS Aragno. Un grande appuntamento di nuoto con tanti giovani che riempiranno la piscina di Pra. Assolutamente sì, testimonia l'impegno che anche la civica amministrazione porta avanti nel mondo dello sport e questo è un evento nazionale che darà sicuramente lustro al nostro territorio e il giusto prestigio a una società sportiva come Aragno che insieme ad altre società sportive prestigiosi a livello nazionale saranno fondamentali per rilanciare lo sport a Genova in maniera importantissima sempre nel nostro futuro e noi ci crediamo in questa tematica. 14esima edizione del trofeo Aragno, un orgoglio per Pra e per tutto il Ponente. Diceva bene, un orgoglio per Pra, tanto torniamo a casa che è la prima cosa a cui tenevo particolarmente perché l'anno scorso, come voi sapete, abbiamo subito quel trasferimento a causa lavori del rifacimento del tetto e dell'impianto. Beh, è uno dei fieri all'occhiello, una delle manifestazioni fieri all'occhiello del Ponente, ma della città tutta. Però è il centro dell'attenzione anche a livello nazionale, quindi per me soprattutto che nasco sostanzialmente sulla fascia di rispetto con Praviva, con Aragno, con Marco Ghiglione, diciamo che è un ulteriore motivo di orgoglio. Le presenze gara, mediamente, tra presente gara e indotto, sono 5.000 persone sul nostro territorio per tre giorni. Diciamo che è sempre stato un grande successo, sono convinto che lo risarà e sono convinto che si riparlerà di Ponente in senso positivo, proprio sempre grazie all'Aragno e all'impianto dei Delfini. I numeri sono notevoli, 1.700, il nuoto è abituato a fare queste cose. Sono contento che torni ad un'amministrazione di così livello nella piscina dell'Aragno perché è una realtà che è sottolineata di tutti, una realtà positiva e mi fa sempre molto piacere andare a presenziare le loro premiazioni. Quindi veramente soddisfatto non tanto come Presidente del Cane di Liguria quanto come cittadino genovese e Ligure perché abbiamo delle eccellenze anche nelle nostre società, sul territorio e anche questo impianto è stato in qualche modo recuperato e questo è un dato che va sottolineato e quindi dobbiamo guardare al futuro con una certa positività.